Daniela Faraonis è insediata come commissario straordinario dell'ASP di Palermo, azienda che ha guidato fino al 31 dicembre scorso da direttore generale. Le prime delibere adottate hanno riguardato le nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario. Sono stati rispettivamente confermati Nora Virga e Francesco Cerrito. Intanto, anche ieri, giorno di Capodanno, hanno lavorato regolarmente le strutture dell'ASP dedicate alle vaccinazioni anti-covid e agli screening di massa per il coronavirus, compreso drive-in e somministrazione vaccini della Fiera. Nell'ultima settimana dell'anno, 24-31 dicembre, l'ASP ha effettuato nelle proprie strutture della città 3.441 tamponi, di cui 481 tra casa del sole, 261 guadagna 117 e in biondo 103. Per facilitare e rendere più rapida le procedure propedeutiche alla somministrazione del tampono della vaccinazione, l'ASP di Palermo ha realizzato un portale dedicato, raggiungebile sia dall'home page del sito aziendale, asppalermo.org, sia direttamente dagli utenti all'indirizzo portale.aspalermo.org. L'utente ha la possibilità di prendere visione dell'intera organizzazione, scegliendo la struttura, di città e provincia, funzionale alle proprie esigenze. La registrazione, attraverso una intuitiva compilazione dei campi richiesti, consentirà successivamente una più rapida somministrazione del tampone o del vaccino. Personale dedicato è comunque presente nelle strutture dell'ASP per aiutare eventualmente gli utenti meno avvezzi alle procedure online. Pur mantenendo la peculiarità dell'accesso in modalità Open Day, gli utenti, attraverso la registrazione sul portale, hanno la possibilità per le vaccinazioni di scegliere sede, giorno e fascia oraria della somministrazione.